Siamo Maddalena, ho 30 anni e non c'è niente di me che mi piaccia. E ovviamente mi sono sempre piaciuti solo gli uomini sbagliati. Tua moglie. Io voglio essere sexy. Come posso fare? Come nei porno. Tutto bene? Vuoi una mano o fai con la tua? Sei solo nella mia testa? Sei solo nella mia... Veramente sono nella testa di un sacco di persone. Facciamo che io ti insegno ad essere sexy, ma tu impara ad amarti. Mi regaleresti il tuo asciugamano? Abbastanza, spegni la luce. Mi arrendo. Hai visto come ci veste? Io mi sono stufata di sentirmi orrenda solo perché al mondo conviene che io mi senta così. Non hai bisogno dell'approvazione degli altri perché tutto dipende da te. Così qual è il tuo tipo? Padre Pio. È super hipster, barba lunga, sguardo misterioso. Se per te non vado mai bene, non mi va bene che tu sia infelice. Ho conosciuto una ragazza che è qui con noi stasera. Le donne sono sexy quando si sentono sexy. Dipende da te. Tu devi imparare a combattere. Oddio, scusa, t'ho schizzato? E non sei la prima. Oddio, scusa, t'ho schizzato.